Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo vlog. Adesso stiamo andando a fare la spesa da MD e poi all'S Lunga. Ma guardate un po' che cosa sta succedendo fuori dalla macchina, guardate. Sta nevitando! Ce l'adoro! Guardate come viene giù. Se si riesce... aspettate. Sta nevitando proprio abbastanza. La sta già attaccata la neve. Da stamattina che nevita. Che bello, amo la neve, adoro! Ma te gli alberi già tutti quasi innevati. No, che bello, veramente. Cioè no, guardate qua. Cioè praticamente i wuster sigillati, senza wuster. Questo qua è super magro, è leggero. Non ha calorie. Innovazione. Che degrado. Allora, adesso ci siamo fermati un attimo al risparmio a casa che devo vedere se trovo i pomelli con le forme di cuore perché devo ristaurare insomma il settimanale, la cassettiera e da pitturare in stile shabby chic e mettere i pomelli a cuore. No vabbè, che sopracciglia oscene devo farle. Cioè, dopo quando arrivo a casa le faccio. Grazie. 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 Allora, sono proprio freddissimo. Sono in macchina che Davide è andato un attimo in posta a fare una commissione. Niente, da risparmio a casa non ho trovato i pomelli. C'erano solo quelli classici, brutti. Però ho trovato una tenda shabby chic bellissima. La coppia di tenda. E molto bella, bianca, grigia con i cuori. Molto, molto, molto bella. Fine, bella. Mi piace tantissimo. E adesso vediamo se gliela do mia mamma. Però, se gliela do mia mamma devo vedere anche un'altra per il finestrone della sala. Quello che c'è tipo tipo oblò. Non è oblò, però è a quadrato. E dovremmo vedere se dovremmo esserci con le misure. Non lo so. Nel caso comunque vado a comprarne altre perché ci sono. E mi sono molto piaciute. Adesso aspetto Davide appunto. Poi si va a casa. Mi faccio una bella doccia. Qua continua a nevicare. Fa un po' pioggia, un po' neve. E... Oggi vi registrerò una videoricetta e la vedrete domani voi la videoricetta. Nulla. Poi mi voglio fare le sopracciglia bene perché sono... Non hanno né forma né senso proprio. Voglio farmi una bella maschera. E... Così un attimo. Voglio prendermi un po' cura di me oggi. Niente. Ci vediamo dopo. Ok. Vi faccio entravedere. Guardate che cosa mi aspetta qua. Sì. Quanto tanto vi faccio già uno spoiler del mio Funko Pop. Qui c'è One per il baffo. Devo cucire quella parte lì. quando prenderò quel filo rosa chiaro lo cuccio. Sì lo cuccio. Sì. Mi aspetta questo lavoro qua. Praticamente devo sistemare tutte le cose di cartoleria. Vabbè la borsa portafoglia non c'entra niente. E poi buttarò via anche un po' di cose di Hello Kitty. Sì. Avete capito bene. Lì sono i pannolini del Bamboo Airborne. Questo già l'ho sistemato. Fatemi sapere se vi interessa un questo cassetto come vedete l'ho già sistemato con tutte le cose delle bambole qui così. Se vi interessa vedere insomma c'è anche altra roba più in fondo. Se vi interessa sapere cosa c'è come l'ho sistemato fatelo sapere qui sotto nei commenti che vi faccio un video apposta di questo. Ecco come vedete questi si sono asciugati che vi ho fatto il video sul canale di Coppia sono bellissimi presi da New Chic guardate che belli sono proprio perfetti non si sono né rovinati né nulla e questo qua questo lo metto sulla mia sgabella della toletta make up ecco qua la magia compiuta guardate scrivania completamente libera non vi faccio vedere nel dettaglio perché poi vi farò una la mia postazione per sto pazza per i video insomma bene ora vi faccio vedere le cose che ho buttato di Hello Kitty allora volevo farvi vedere le cose che butto via butto via questo diario dei puffi questo astuccio di Hello Kitty lo butto queste varie penne di Hello Kitty non si vanno più in un pietanel questa carta da letta di Hello Kitty perché è rovinata questi due borsali li butto questa penna qua anche questa è rovinata pupazzini così a caso di Hello Kitty che mi sono venute questi stickers così via anche questo butto e ora vi faccio vedere che butto nella spazzatura beh è un inizio dai ecco è un inizio o comunque è già la butta diversa di roba di Hello Kitty ok ovviamente anche tutta questa roba che vedete per terra è tutta da buttare mi sono disfattata di un po' di cose inutili insomma diciamo bene non potete capire la stanchezza e nulla volevo farmi le sopracciglia però sono molto stanca non credo nemmeno che lo caricherò stasera questo vlog ve lo caricherò domani però vabbè perché ho sacco di cose da fare appunto voglio mettere a posto la stanza sistemare tutto in modo che così riesco a fare anche tutti i video ora finalmente che la scrivania posso fare roleplay di ASMR ho già girato due video che però non mi convincevano molto e non so se caricarli o meno ora con la scrivania appunto libera ne posso fare di molto belli poi anche in modo comodo sono contenta di essermi liberata di un bel po' di roba ho buttato via anche un po' di vestiti ho buttato via anche altre cose che non erano di Ello Kitty e quello in primo inizio la scrivania poi passando man mano alle varie zone butto via un bel po' di roba ma già comunque in passato anche se non l'avevo detto avevo proprio buttato un sacco di cose di Ello Kitty mi piace tantissimo Ello Kitty continuo a piacermi però le cose un po' bambinesche tipo i pupazzettini quelli lì che si trovavano le patatine o gli stickers oppure che ne so vecchie agende così o astucci come avete visto portafogli così non li tengo più li butto e adesso devo vedere anche devo fare devo fare anche una una cernita dalle borse di Ello Kitty che qualcuna sicuramente la butto e nulla così mi libero un po' di robe inutili e quante cianfrusaglie che tenevano veramente mi tenendo a posto saltano fuori di quelle cose che dicevo ah ok non mi ricordavo anche di averlo e nulla quindi sto liberando tantissime cose visto che dite che io accumulo non ci sta niente no non è così in realtà non so perché vi ho fatto il video però comunque solitamente faccio sempre queste cose di buttare e se prendere il nuovo ovviamente non è che accumulo in modo seriale voglio dire la fantasia vostra è proprio galoppante comunque nulla dai io vi mando un bacione ringrazio tutti i nuovi iscritti gli iscritti di sempre e la videoricetta la vedrete domani e o dopo se non lo so perché se vedrete questo vlog domani la videoricetta la vedete dopo domani si e poi adesso che ho anche la postazione make up devo fare il video della postazione make up vi devo fare il get ready e e poi insomma altri video se volete dirmi voi che video volete vedere comunque adesso posso fare anche quelli cartopazzi visto che ho la scrivania in ottima sistemazione vi farò vedere anche come ho sistemato e tutto insomma e basta iscrivetevi anche al canale di coppia Davide Chiara Channel canale Chiara d'Alessandro ASMR e a questo ovviamente se no vi vengo bene a casa bene ci vediamo alla prossima ciao ciao